Nei prossimi giorni sull'intero continente europeo si espanderà da ovest verso est l'anticiclone delle azzorre, il quale determinerà sull'intera nostra penisola condizioni di assoluta stabilità con temperature in progressivo aumento. Una fase di tempo tipica dell'estate settembrina che interesserà la nostra regione almeno fino a metà della prossima settimana. Per sabato 14 e domenica 15 settembre condizioni di cielo sereno ovunque per l'intera giornata, temperature in aumento con valori massimi intorno ai 30 gradi e con locali punte fino a 32-33 gradi, venti deboli a tratti moderati, settentrionali e mare quasi calmo. Bel tempo anche nei primi giorni della prossima settimana con ampio soleggiamento e temperature ben al di sopra della media stagionale. Per maggiori dettagli sulle previsioni meteo è possibile seguire i prossimi aggiornamenti